Tommaso Hobbes, tutto è materia o manifestazione della materia? Il grande sistema di Cartesio lascia ai suoi successori una problematica da affrontare e da risolvere, il rapporto tra le due res messe a tema da Cartesio. Qual è in sostanza il rapporto fra la res cogitans, il pensiero, e la res extensa, la materia? Come si relazionano fra loro queste due sostanze ontologicamente differenziate? Se è vero, come Cartesio ha ammesso, che le due res rimandano a due diversi modi ontologici, il pensiero, res cogitans, e la materia, la res extensa, come è possibile ammettere una loro relazione? Come sappiamo, Cartesio aveva trovato una soluzione fino a un certo punto soddisfacente, quella della ghiandola pineale. Nella ghiandola pineale avviene in maniera difficilmente comprensibile, in vero, il contatto, la relazione fra le due res. E così capita che quando col pensiero decido di alzare il braccio, ecco che grazie all'incontro tra res cogitans e res extensa, mediante la ghiandola pineale, riesco effettivamente materialmente ad alzare il braccio. Possiamo dire, senza esagerazioni, che tutti gli autori dopo Cartesio dovranno risolvere questa aporia del rapporto fra le due res che Cartesio aveva messo a tema, ma per la quale non era stato in grado di fornire una soluzione appropriata o comunque convincente. Ecco, tra gli interpreti che provano a risolvere l'enigma di Cartesio, vi è sicuramente Tommaso Hobbes, che lo risolve in una maniera unilaterale e di segno diametralmente opposto rispetto a quella che sarà la soluzione di Leibniz. Leibniz risolverà il rapporto tra materia e spirito, fra res extensa e res cogitans, tutto a favore dello spirito. In sostanza, per Leibniz, la materia non sarà altro che un epifenomeno dello spirito, o se preferite, la res extensa, in realtà non è altro per Leibniz che manifestazione secondaria della realtà monadologica spirituale. Per Hobbes vale esattamente il principio opposto, come dicevamo poc'anzi, sì che Hobbes precorre una soluzione di segno opposto a quella che sarà invece propriamente di Leibniz. Per Hobbes, infatti, tutto è materia e anche ciò che chiamiamo spirito in realtà non è se non epifenomeno della materia stessa. Ebbene, Hobbes parte da una definizione che sembrerebbe iperidealistica, che è la definizione che aveva fornito Platone nel Sofista. Che cos'è essere? Essere tutto ciò che ha la potenza, la possibilità, dynamis in greco, di compiere o di subire azione. Ebbene, dal punto di vista di Hobbes, propriamente, solo ciò che subisce e compie un'azione esiste, come per Platone, ma in realtà solo la materia può compiere e subire azioni. Sicché, per Hobbes, la realtà non sarà altro che un insieme di corpi e di movimenti di corpi. Non vi è nient'altro rispetto alla materia. Provanè oltretutto che, in polemica con un vescovo del suo tempo, Thomas Hobbes arriverà a sostenere che perfino Dio è realtà corporea e che non potrebbe essere altrimenti. Se non fosse corpo, Dio non esisterebbe, perché tutto ciò che esiste è corporeo. Ma Dio esiste, ergo, per Hobbes, Dio ha da essere materiale. Quella di Hobbes è dunque una fisica radicalmente meccanicistica che si fonda, di fatto, sul principio per cui tutto è materia e, ripeto, anche ciò che appare diverso dalla materia in realtà è manifestazione secondaria della materia stessa. Ecco perché potremmo dire che per Hobbes la sensazione è il fondamento di ciò che avviene nel nostro mondo percettivo. La sensazione non è altro che un movimento impercettibile degli organi centrali del corpo e, similmente, Thomas Hobbes spiega anche la memoria. Come mai ci ricordiamo delle cose, tuttavia col tempo il ricordo tende a sbiadirsi? Hobbes prospetta una spiegazione stricto sensu-meccanicistica. Quando vediamo, ad esempio, qualcosa, i nostri sensi sono urtati e si innesca il movimento materiale mediante il quale vediamo la cosa che sta dinanzi a noi. Quando poi la cosa non ci sta più davanti, continuiamo a vederla perché il moto innescatosi quando l'asservavamo perdura per la legge d'inerzia e così con la mente continuiamo a vedere l'oggetto che prima ci stava di fronte. La memoria è quindi un moto attenuato che permane in noi per un certo tempo e quindi anche questo aspetto della memoria viene da Hobbes spiegato in termini rigorosamente meccanicistici. Ebbene, dal punto di vista obsiano, dicevo, le due res di Cartesio si relazionano tra loro nel senso che una è epifenomeno dell'altra. La res cogitas non è altro che un epifenomeno della res extensa. Ricapitolando, per Hobbes esiste solo ciò che può fare o subire un'azione, come aveva spiegato Platone nel Sofista col concetto di dynamis. Ebbene, la nostra stessa coscienza è riconducibile a materia perché esiste solo la res extensa. In che senso? Nel senso che se esiste solo ciò che può fare o subire un'azione, allora esiste solo la materia. E quindi la nostra stessa coscienza, la sfera spirituale, è riconducibile a materia, a corpo e a movimento. A movimenti che dal centro, cuore o cervello, vanno verso la periferia e viceversa. Ecco in cosa consiste di fatto il materialismo di Tommaso Hobbes, che si determina poi nell'assunzione della fisica come scienza fondamentale, alla cui luce spiegare perfino la politica, che non è altro che una fisica sociale. Grazie. 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 Grazie.